Buon viaggio e bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Partiamo con la 1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna, c'è un veicolo in avaria, mentre in direzione Roma segnalata la presenza di pedoni tra Incisa, Reggello e Valdarno. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, traffico ralentato, traffico intenso tra Scandicci e Firenze, Scandicci in direzione Firenze. C'è una coda per la viabilità esterna che non riceve sempre sulla FIPD alla strassigna provenendo da Firenze. E veniamo proprio ai lavori a Firenze, in via del Moro, ancora un trasloco, dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina la circolazione sarà interrotta da Piazza Goldoni a via dei Palchetti. Bene, non ci sono altri aggiornamenti al momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie a tutti.